Continuiamo, sono morto due volte tipo Non so, cioè è solo allibito Non so cosa cazzo dire qui Madonna, Silvà, Silvà Mitchell, apri quel cancello Oh Bene Grazie Grazie Atlas, non è la compagnia di tuo padre? Sì Sono ben pagati ed equipaggiati Perché non sei con loro? Voglio servire la patria, non mio padre Basta parlare Attività nemica Battuglia Eliminare Andà Manneggia santa, è il tostello eh È il tostello sto cazzo di giù Ce n'è uno là fuori Ce n'era uno là Addietto acciotta Mannaggia santa, non riesco a parlare Il contatto vuole 10 Mi arrivano ancora Dio porco Lo so che sto andando a morire Dove cazzo sono? Dove cazzo sono? Temici, a destra Archi unita santa Fermi in a destra Temici a destra Temici a destra Cuoco di soppressione Facciamolo fuori Cioè io non lo vedo Dove cazzo è? L'ho ucciso? Eh mi colpiscono Ma dove cazzo mi sta sparando? Ma mannaggia la puttana oh Dove cazzo sono? Oh non li vedo Oh non li vedo Contatto ore 11 Contatto ore 12 Ma qua non la finivamo più Oh non li vedo Madonna santa ma come cazzo si fa? Oh cazzo si gioca Ah cioè se gioca più Contatto ore 12 Contatto ore 11 Contatto ore 11 Contatto alla finestra Contatto Ben arrivato a B Grazie Forca puttana Merda Squadra demolizioni 1 Rispondete Andate granate o Vaffanculo Guardate dove cazzo escono Ma ci ve Madonna ma non la zecca Cazzo Mamma mia che cazzo di gioco Cura mamma te Squadra demolizioni 1 Rispondete Merda Muoviamoci Mamma mia Ce ne sono più di nemici Madonna Cristo che madonna sto gioco Ce l'ho duro Dobbiamo trovare la squadra De polizioni Mitchell di qui Ecco il lanciamissili La squadra sarà le vicino Eccola Cazzo Sono morti Ok Ok Vedo i loro esplosivi Possiamo farcela Non siamo una squadra demolizioni Lo so Ma mentre ne aspettiamo un'altra Quel lanciamissili si sposterà altrove Penserò io alle cariche Voi copritemi Sicuro Will? Sì Posso farcela Ok Mitchell Vai con Irons Usa quell'LMD Ricopriamo le spalle Andiamo Sono al balcone Contatto Merda Dove cazzo è? Madonna Non lo vedo Oh non lo vedo Madonna Madonna Santa Madonna Mi sento un verme Ma che c'è? Contatto Ore 12 Ah no Scusami Sto venendo come un bar E io Sono al balcone Oh non lo vedo Oh no Scusami Oh no So Super ma hai da rotto il cazzo contatto carichi a tempo prendile il lancio missili è blindato dovrete trovare un pannello d'accesso e piazzare le cariche all'interno ricevuto signore mitchell vieni qui defender 23 assicuriamoci che non siano morti per niente 2 e 3 cambiamo bersaglio ci attaccano riposizionamento corbac quel lancio missili ci va a pezzi situazione squadra demolizioni persa proviamo a completare l'opera ci siamo quasi possiamo farcela alza missili ma sono mangi Insomma manco io come cazzo ho fatto Dai Madonna Mi hanno fatto davvero in botto stavolta Porca troia ragazzi Merda Benchel Benchel Mamma mia Mamma mia Sì Sono ridotto A bene Bene Sì Sì Grazie.